ciao creatura io sono Ekati Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Guzai ASMR ciao creatura questa sera uno story time come avevi richiesto nei video precedenti e ho anche le prove di questo story time prima di questa cosa che ti verrò a raccontare, che ti racconterò questa sera prendiamo questo come trigger per questa sera, per questo nostro racconto sicuramente avrò spoilerato tutto dal titolo ma non importa creiamo un po' di suspense questa cosa che mi è successo è una di quelle cose che non avrei mai pensato in tutta 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 che potesse mai succedermi però il bello della vita è che insomma succedono cose così, non aspettate e che qualcuno avrebbe sicuramente preso male questa situazione si sarebbe si sarebbe adirato e arrabbiato tantissimo e minacciato di denunciare no? io invece l'ho preso sul ridere perchè è stata una situazione talmente assurda e inaspettata appunto che mi sono ritrovata così ho detto no dai ma davvero tante volte durante la mia vita mia esistenza sono successe cose in cui ho pensato ma sta succedendo davvero? ecco e questa è una di quelle quelle volte è successo esattamente mercoledì scorso e cos'è successo? mi arriva un messaggio da Andrea chiedendomi prima ci sei? ecca te ci sei? poi mi ha mandato uno screen e poi mi ha mandato un video e poi mi ha scritto ma conosci sto tizio? e ogni volta che donano esce la tua faccia io che erano? erano le le 3 e 43 del pomeriggio ovviamente le 15 e 43 mi vedo arrivare a sti messaggi ma che ma di cosa sta parlando? mi stai trollando? perché le volte Andrea mi fa degli scherzetti però non stavo capendo la situazione apro apro la foto vedo effettivamente apro il video vedo ma che il video te lo metto tra l'altro ti metto il video perché così capisci? non sono io che me la tiro che mi sto inventando le cose cioè prima che tu crei un profilo fake con cui venirmi a dire non è meno ti metti girando non si prevecele tu prima di venire a scrivere una cosa del genere ti metto le prove che così ti risparmio la fatica di stare lì a crearsi un altro fake con cui dopo verrai bloccata quindi già metto la prova e e quindi niente mettiamo la prova e te la metterò da qualche parte qua e beh c'è un tizio che non conosco perché io non l'ho mai visto in tutta la mia vita da quello che ho capito non mi segui neanche cioè non sapeva chi fossi ok? non sa credo non cioè io non non credo di aver mai avuto interazioni non so se mi seguisse anni fa dopo non ho indagato comunque c'è Andrea in sta live e gli faccio appunto questo qua a questo tizio allora devo spiegarti un po' meglio per chi mi segue da poco ho avuto un canale youtube non asmr e facevo dei video un po' così stupidi ecco perché quei tempi erano altri tempi sia per me che per il periodo anche perché andavano di format che adesso non neanche più si erano si erano anche più piccoli il pubblico era anche più piccolo eccetera eccetera il pubblico che avevo io i follower che avevo io e facevo vlog, video assaggi video dove provavo cose tweet yourself però tutte non smr poi ho iniziato anche a fare smr ma diciamo che la fascia di età di pubblico che avevo era ragazzini ecco e che poi sono cresciuti poi magari adesso continuano a seguirmi più seriamente diciamo perché ragazzini giustamente ma anche chiunque comunque cioè io utilizzo youtube come sfago sia per fare video che per guardarli quindi era proprio uno sfago così fatto per divertimento e anche se perché potrebbe essere anche la smr però è uno sfago un po' più diciamo serio per me perché è fatto per un po' più rilassare quindi la prendo un po' più sul serio come cose invece quella era intrattenimento così un po' a cazzaro non so quindi come come dire e comunque vabbè e in quel periodo ho avuto un bel po' di ragazzini che mi creavano delle pagine fan fan con con le foto poi c'erano citazioni improbabili di ecate e così così che prendevano tipo la mia faccia e creavano delle vignette delle situazioni delle frasi che non c'entravano niente con me ma faceva ridere proprio perché ero tu fuori contesto ecco e questo lo facevano con me con altri miei amici che che stavano su youtube e le fan art quelle cose lì e c'è stato un periodo che usavano prendevano dei pezzettini 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 prendevano dei pezzettini di miei video e facevano delle gif animate con delle facce un po' c'era tipo già splendori ho ancora i capelli verdi per dire no per quello dico già splendori poi c'era uno dove facevo insomma diversi con creepy rabbit e con me con ecate splendente ancora con i capelli verdi quindi si parla di un po' di anni fa e e quindi niente una volta creata create queste gif che sono state o gif gif animate una volta create queste gif o gif animate perché qualcuno dice gif sono state caricate su dei siti e sono rimaste lì per sempre però in teoria venivano trovate solo scrivendo ecate splendente quindi se tu vai su alcuni siti che hanno gif o gif animate e scrivi ecate splendente esco io su tenor mi pare fossero state caricate se non sbaglio comunque vabbè esco io faccia ridere così e potrei chiudere il video così però non è finita qua e anche se questa questo screen perché non è comunque una gif animata è una gif è proprio uno screen una foto e da quello che ho capito l'ho preso dal mio video ok Andrea è entrato dentro questa live che io pensavo fosse sul sito viola invece era su tic tac e entra su 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 sta live gli dice chiede ma scusa ma quella di una mia amica ma sai chi è che stai usando la sua faccia no? e lui fa eh ma non è eh gli youtuber se si mettono su youtube devono sapere che eh le persone possono prendere la loro faccia no lui ha scritto ma non funziona proprio così cioè non è che se io faccio un video su youtube e tu vuoi prendere la mia immagine e metterla dove vuoi non funziona proprio così perché io non ho affermato nessun consenso però cioè ok io ho dato il permesso di stare su youtube a youtube e col mio video ma dopo tu non è che vuoi prendere quei video lì e fare quello che vuoi e legalmente diciamo ecco dopo teoricamente in pratica lo puoi fare perché lo stai facendo ma teoricamente non potresti non sarebbe proprio legale ecco e e allora questo si è tipo si stava un po' che stava un po' preoccupatino no? perché Andrea subito ha reagito male no? ed è venuto appunto a dirmelo allora mi ha mandato il link della live io non avevo capito che era su tic tac quindi oggi sul computer perché stavo facendo altro non ero neanche a casa sono tornata a casa oggi sul computer non e dopo ho visto che era una un link di tic tac allora ho spento il computer sono andato da telefono l'ho aperto e vedo appunto questo tizio che non so chi sia non ne ho idea che ogni volta che qualcuno mi inviava una donazione appariva questo mio screen che io faccio così e sul video si vede esattamente lui che poi mi imita lui mi imita a fare lo stesso gesto allora io entro e faccio ciao sono io quella della foto ah ciao io ti adoro tu sei un meme e tu sei il mio meme preferito ma un meme non sapevo di essere un meme non sapevo di essere un meme mi piace lo metterò come titolo sembrava tipo uno di quegli episodi tipo non sapevo di essere incinta ecco una cosa che c'è e io dico ma io non sapevo neanche di essere un meme mi fa lui parlavano e lei lo scrivevo eh anch'io sono stato un meme non ti preoccupare vabbè cioè non ho visto nulla di preoccupante lui non mi denunci vero io non avevo neanche pensato di denunciarlo mi faceva talmente tanto ridere cioè io volevo entrare il protagonista di questa live tipo ah ciao sono il tuo meme mi faceva troppo ridere sta cosa e quindi niente io sono entrata proprio così a piedi pari dentro questa live presentandomi come ciao sono io il tuo meme preferito eccomi qua esisto e e niente usava quella lì e un altro un altro screen di un ragazzo che non lo so però principalmente è che anche l'altro ragazzo lo screen del viso di l'altro ragazzo non sapevo più fosse e e faceva ridere appunto che quando donavano principalmente usciva la mia meme la mia meme la mia faccia più che altro e lui dopo si è tutto casato venisse a dire ma io ti sto rendendo ancora la più famosa io ti sto dando dovresti pagarmi addirittura ci siamo passati dal non mi denunci vero al dovresti pagarmi perchè io sto usando la tua immagine senza il tuo consenso tra l'altro vabbè e mi ha fatto troppo ridere mi ha detto ah sto ridendo troppo non vai tranquillo ho detto puoi pure usarla tonto cioè a me non mi cambia niente anche perchè non sapeva neanche il mio nome quindi lui ha preso a caso uno screen qualcosa non so non ho capito come abbia fatto ad arrivare ai miei video e a credere che quello fosse un meme perchè boh sono solo io che faccio così boh non lo so ma mi faceva ridere soprattutto perchè c'è anche il video quindi c'è anche la prova tangibile che posso mostrarti che appunto quando donano e viene fuori il mio meme lui mi sa proprio si vede cioè lui non sapeva che Andre stesse facendo la registrazione quindi è stato proprio lui lo fa normalmente cioè lui è il suo meme preferito e è boh fantastico adesso lo aggiungo alla lista delle cose non da fare ma di cui essere nella mia vita prima di passare la miglior vita ok che non non c'era lo lo aggiungo lo scrivo lo depenno perchè l'ho fatto senza neanche saperlo quindi mi mancava proprio essere un meme cioè lo so lo so fantastico cioè devo essere una divinità ho raggiunto anche il livello di meme cioè top quanti possono vantarsi di questa cosa pochi nel mondo penso solo quei prescelti pochi eletti no quindi non essere triste da qualche parte nel mondo qualcuno ti ha scelto come meme preferito cioè capi effetti e quando me l'ha detto Andre non ho minimamente pensato alla denuncia anzi dentro di me so che se fosse successo non so qualche anno fa ci sarei rimasta male non so l'avrei presa in modo diverso invece in questo periodo cioè ormai come sono io diventata dopo tutto quello che è successo che ci scherzo su e basta e dico ma si anche se è ma si che che ridere insomma usalo pure chi se ne frega cioè non è che mamma mia cioè cosa pensa la gente ma chi se ne frega tanto io no io no io no io no e quindi niente anzi io adesso mi lo metterò sul curriculum mi vanterò di essere un meme e io non so questa persona quanti volo che rabbia e mi dispiace solo che sia un meme esatto nome perché lui non sapeva come mi chiamavo perché sono entrata non so se Andre credo che Andre gli avesse detto adesso entra la mia amica non è che gli ha detto non è che gli ha detto perché usi quel meme cioè un conto è se lui avesse detto ma questa è cate splendente no cioè nel senso sto usando questo meme perché so chi è lo usavo un po' così quello mi è dispiaciuto perché quasi quasi perché sarebbe stato bello dicesse cate splendente c'è capito allora sì che dopo diventavo virale no scherzo va bene così mi fa ridere uguale e insomma c'è Marco sacato un meme quindi già posso tirarmela perché sono più o meno allo stesso livello no? il mio meme viene usato da meno persone però poche ma buone non so comunque poi non sono rimasta in live con questa persona perché facevo un gameplay noioso si è soffesa ok? ero solo entrata come guest star per vedere cosa stessero combinato con le mie facce però è stato veramente troppo beh cioè boh mi ha fatto ho detto no questa devo raccontarla in un story time perché quanto mai potrebbe quando mai mi ricapiterà una cosa del genere boh credo mai nella mia vita che ridere veramente non ho parole non posso ridere che adesso sembra che dico che ridere poi sono serio è che non posso ridere in un video smr perché già qua a volte tante volte devo tagliare perché quando ride io soffio sul microfono e faccio un casino devo tagliarlo ci sono un sacco di video che ho dovuto tagliare perché ridevo e vabbè ma quello che abbiamo pensato io e Andre che è stato proprio il destino a farci incontrare mi ha raccontato mi ha raccontato che ha aperto tic tac e ha tic tac che gli ha sparato tra i consigliati per te questa live che lui non guarda live di gameplay su tic tac e lui ha visto solo tipo un po' di anteprima no? e lui ha visto solo che su tic tac puoi vedere l'anteprima poi se schiacci non so se tappi dentro alla live entri altrimenti la guardi così da fuori da esterno e lui ha buttato l'occhio e come ha buttato l'occhio hanno fatto una donazione è uscita dalla mia faccia e ha detto ma come? è rimasto così e va io non lo seguo non seguo live di quel tipo e me lo mettono nei per te proprio in quel momento donano e vedo la tua faccia cioè quante probabilità c'erano che potesse succedere tra l'altro anch'io io vedo un sacco di in questo periodo sto tanto su tic tac e non non mi era mai uscita perché comunque ha visto che era un bel seguito questo personaggio quindi mi ha fatto troppo cioè proprio Andre poi l'ha vista con tutte le persone che mi conoscono che magari non me l'avrebbero detto no? proprio Andre che subito è venuto con lo screen e gli ha scritto subito quella è una mia amica perché stai usando la sua faccia mi ha fatto ruorire era più arrabbiato lui di me io proprio per niente arrabbiata io tranquillissima mi ha fatto morire a terra di testa cosa ma cioè veramente top sono anche un meme adesso poi poi allora in quella settimana lì sono successe tutte cose tipo Abad mi ha messo like quindi ha un commento che non ho fatto sotto un suo profilo ma su un profilo di un'altra persona come ha trovato il mio commento non lo so comunque adesso so che in un certo senso il mio cantante preferito non rovesse se sa che io esisto perché ho scritto che ho bisogno di Abad nella mia vita e lui mi ha messo like quindi lui sa che io esisto in un certo modo proprio a tirarla così in più mi scopro che sono diventata un meme cioè quella settimana lì volavo blu 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 ero tipo potevo tirarmela tantissimo da quel momento in poi quindi io sono un meme se vuoi farti degli screen di qualcosa e usarmi come meme sono a tua completa disposizione creatura dovrò fare anche degli stickers da usare su whatsapp secondo me andrebbero tantissimo tu cosa ne pensi in realtà li avevo qualcuno me li aveva creati esistono forse su telegram forse era sul sito dovrebbe esserci che gira da qualche parte qualche pacchetto di telegram con gli stickers con la mia faccia con le mie foto da qualche parte non mi ricordo se su credo su telegram vabbè ormai che ti devo dire sono un meme sono un meme vivente è finito qua il mio story time cosa ne pensi creatura se fosse successo a te come avresti reagito con ridere basta bisogna solo ridere per queste cose penso no? cioè prendere solo queste cose vuol dire proprio non avere altri problemi comunque ehm ehm storie time comprove quindi proprio nessuno può dire niente stavolta prove legali ecco perché ovviamente non mostro la chat con Andre ma ehm però mostro visto che lui usa la mia faccia io posso usare la sua perché inizialmente ho detto ma magari censuro la faccia del tipo ma dopo ho pensato ehm ma lui usa la mia faccia cioè vuol dire che se lui ci mette su internet il stesso discorso l'ha fatto lui quindi metterò un pezzettino della live quella che mi è stata inviata peccato non avere tolgo l'audio comunque tolgo l'audio perché lui aveva della musica su dopo non volevo problemi di copyright poi un video smr è peccato non aver fatto ma si potrà tornare cioè proprio dico Andre tornare quella live sarebbe bello andare ehm in live e fargli se avessi avuto la prontezza di fare una registrazione di lui che diceva ma tu sei il mio meme preferito ma tu sei il mio meme preferito se sarebbe stato top l'avrei incorniciato su tutti i miei social perché mi faceva ridere questa cosa e allora se sei arrivato fin qua commenta con ma tu sei il mio meme preferito e e capisco che sei che sei riuscito a vedere da sveglio tutto il video grazie per il like grazie per continuare a seguirmi domani in teoria vado al mercato speriamo che ci sia un bel tempo che domani in realtà è oggi per te chissà chissà sono uscita a fare quel video che volevo fare sto organizzando una collab spoiler vabbè sui cd dico tutto creatura tu seguimi sui cd che li sai notte prima gli spoiler dei video che usciranno questa settimana settimana e le prossime settimane se riesco a portarmi avanti ci sono state un po' di feste e quindi da noi c'è stata alviera con le giostre io cioè mio padre abita appiccicato e quindi è stato difficile fare dei video questa settimana a portarmi avanti e perché appunto c'era la musica delle giostre a tutto volume che si sentiva sparatissimo fino a notte e e vabbè è andata così comunque spero che questo video ti abbia fatto rilassare come sempre ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura